Sì, Santa Lucia era di Siracusa, cosa è venuto a fare in Veneto? E i veneziani durante una crociata gli ha conquistato Costantinopoli e ha portato via Santa Lucia che le diventò protettrice dei territori di Venezia, insieme a San Marco. Ma quando eri piccolo, Dino, Santa Lucia portava anche a te i doni? Per forza! E che doni ti portava? Un bel bottiglione di vino e adesso è ora di andare in letto, Buteletti, che arriva Santa Lucia a portarvi i regai, perché se non vi indorme in sé, la vi porterà il carbon. Ma, Santa Lucia? Sa che? E le vestite rosso come Babbo Natale, Dino? Guarda che Babbo Natale non le mai sta vestito di rosso, e ha una palandrana verde, le sta la Coca-Cola a metterle il vestito rosso per farlo dentare il simbolo della sua bibita. Dal buon! Che canaie! Propri canaie! Per quella che mi la Coca-Cola non a me piace e preferisco la birra. Ma, Dino, perché il proverbio dice che la notte di Santa Lucia è la notte più lunga? Perché la mia maestra mi ha detto che la notte più lunga è il 21 dicembre? Chi è che ha ragione? Le maestre lega sempre raison, ma anche i proverbi non sbaglia. Può l'esser perché il 13 dicembre, anche se non è il giorno più curto, l'è il giorno che il sole il tramonta prima.